Benvenuti, cari follower. Se il modello europeo conferma oggi le aspettative e indica il ritorno della neve e della pioggia forte alla fine di questo mese, febbraio 2023, e lo spessore della neve supererà i 50 cm nelle regioni delle pianure centrali, nelle regioni dell'Adriatico Meridionale, del Tirreno Settentrionale, e anche nelle regioni settentrionali d'Italia sarà presente neve, e non è escluso che registrerà nevicate. Per qualche nevicata nelle regioni meridionali, e come abbiamo precedentemente vi assicuro, la situazione si intensificherà negli ultimi tre giorni di febbraio, in particolare dopo il 26 febbraio, la situazione si intensificherà maggiormente al centro e nord Italia. Gli aggiornamenti finora confermano che l'Italia è stata interessata da questa fredda discesa polare, ma i modelli sono ancora un po' oscillanti nel definire le aree interessate da neve e pioggia con la forza di un'idea. Gli aggiornamenti rilevano che le regioni settentrionali sono fortemente interessate, una volta nelle regioni centrali, e una volta nelle regioni meridionali, quindi si attenderà il prossime 48 o 72 ore per confermarvi sulle regioni fortemente interessate e in misura minore, ma in larga percentuale, questa discesa polare sarà a favore delle regioni centro-settentrionali in misura maggiore, ma potremmo assistere a sorprese in le prossime ore e potrebbe cambiare gli aggiornamenti sono a favore delle regioni meridionali, e quindi dobbiamo seguire continuamente le ultime uscite dei modelli digitali al mondo, per salvaguardarci dal pubblicare le aspettative finali, ma nelle prossime ore, e accetta i miei saluti, e ad un altro video.